Con un po' di affanno salendo le scale siamo arrivati alla cima del campanile ovviamente Pellegrino suonerà la campana a festa per il ritorno di Telenostra sul canale 189 Bravo Pellegrino, 189 scampanellate a festa fino a suonare tutta la provincia esatto ma lei si allena pure prima di suonare la campana sono già allenato, non ci stanno problemi facciamo vedere i muscoli perché l'altra volta ha avuto grande successo soprattutto tra le donne proprio lei si è preparato per suonare le campane fa le flessioni a terra ti ricordi pure come no, le mani queste sono le mani dello scampanatore sì 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 è bravo Pellegrino, la differenza tra i suoni perché purtroppo c'è anche la campana che suona a morto quando c'è il funerale purtroppo sì quella che rintocco ha un rintocco più grave più sì, più dispiacevole più non so lento no, 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 no sono tocchi di campana proprio tocchi lei lo fa bene pure con la voce complimenti è così, è proprio come sto facendo io e poi c'è quella festa come fa la prima voce? come fa? din-don-din-don no, no, no quella è a festa è a festa come fa? fa din-don-din-don lei ha preso tutti i suoni delle campane ok ma ci può far vedere poi ti volevo dire prima che suonarla diciamo questa qua purtroppo a chi me lo chiede come disse l'altra volta io la suono pure a morto perché io ho creato ho creato questo uncino l'ho creato l'ho creato questo uncino che sa mettere sotto a quel gancio che adesso non so il gancione il campanone riesce a inquadrarlo sì, come no? quel buco al centro del battaglio si può dire sì, come no? si mette e con le e giustamente con questo ferro si tocca le parti della campana e suona a morto poi si toglie quando non serve e poi si suona a festa quando è festa ce la può fare una bella suonata a festa? come se a tutti gli amici si sposta un poco sì, non vorremmo finire sotto la campana a scampanare veramente dove ci vuole in posizione di sicurezza perché lei si deve alzare lei lieve ah, ecco sì, sì dopo vi faccio vedere come rallia la campana con il salto e senza salto è un acrobata sì, sì, sì sì, sì ok, va beh comincio bravo lo scampanatore vai scampanatore scampanatore io mi avvio è diverso da campatore ovviamente eh, lo campatore è una cosa va bene non ci succede nulla no, 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 no state tranquille no, no, state tranquille state tranquille state tranquille grazie a tutti Grazie a tutti.